Anche il Consiglio Comunale di Ischia approva la Tasi. Consigliere Bernardo, quali le novità tra le righe? La prima novità è che i cittadini di Ischia dovranno pagare, grazie alla delibera che ieri sera Giosi Ferrandina ha imposto al Consiglio Comunale, 2 milioni di euro in più rispetto a quello che hanno pagato l'anno scorso. Cioè, se l'anno scorso sono stati pagati circa 9 milioni di euro dai cittadini di Ischia al Comune di Ischia, quest'anno i cittadini pagheranno 12 milioni di euro e sono dati chiarissimi, d'altronde il 16 ottobre ognuno si renderà conto di quello che dovrà pagare. La grande novità è che quest'anno pagheranno non solo i proprietari delle case ma anche gli inguilini, i conduttori delle abitazioni, anche se in parte, per essere onesti, però è una novità proprio della Tasi che questa Tasi viene pagata anche dagli inguilini, quindi la prima volta uno che non è neppure proprietario di una casa. Oltre a pagare il pigione, oltre a pagare la tassa della spazzatura, dovrà pagare una percentuale di questa Tasi e quindi questa è la grande novità. Guarda Amedeo, si stanno dicendo tanti chiacchiere su questa Tasi, però che vi è un abuso da parte di tutti i sindaci e soprattutto da parte di Giosi Ferrandino, lo riscontriamo anche ieri sera nell'intervista che ha fatto Renzi, a cosa serviranno questi soldi? Serviranno a finanziare una macchina che è autoreferenziale perché il comune, tutto quello che fa il comune, il 90% di quello che fa il comune, non viene restituito in termini di maggiore ricchezza al paese, cioè il paese è quasi indifferente alle attività del comune. Serviranno a pagare i dirigenti.